Sabato scorso, vale a dire l'altro ieri, è affondato a circa 9 miglia marine dalla costa di Catanzaro. Il motor yacht Saga di circa 40 metri di lunghezza, battente bandiera delle Cayman Highland, ma con equipaggio italiano in navigazione da Gallipoli a Milazzo. La sala operativa della Capitaneria di Porto di Crotone era stata interessata nella notte dal comando di bordo che segnalava una via d'acqua a Poppa, motivo per cui veniva dirottato sul punto un pattugliatore romeno in pattugliamento per conto dell'agenzia Frontex ed inviato prontamente la motovedetta CP321 da Crotone. I primi quattro passeggeri e un membro dell'equipaggio sono stati messi in sicurezza nell'immediato sul pattugliatore romeno e successivamente trasbordati sulla motovedetta CP321 e condotti in porto a Catanzaro Marina, mentre la società armatrice contattava la ditta di rimorchio crotonese per tentare il recupero dell'unità. Alle prime luci dell'alba il rimorchiatore Alessandro II di Crotone è giunto sul punto e iniziava a rimocchiare il Saga verso Crotone, unico porto dove la suddetta nave da di porto sarebbe potuta entrare, prendendo a bordo altri quattro membri dell'equipaggio, tra cui il comandante, ma la situazione si presentava subito in progressivo peggioramento a causa delle condizioni meteo difficili e della costante inclinazione a dritta dello yacht, tanto che ad un certo momento è apparso improponibile arrivare fino a Crotone e l'unica possibilità di salvarlo è risultata essere lo spiaggiamento. Malgrado il massimo impegno profuso in tal senso, però l'acqua è arrivata presto fino al fly dello yacht e le stesse condizioni del rimorchio divenivano pericolose e dunque si è deciso pertanto di mollare l'unità che affondava in brevissimo tempo. Il personale marittimo del Saga che si trovava a bordo del rimorchiatore è stato poi trasbordato sulla motovedetta e portato a Catanzaro Marina. Non sono note le cause della via d'acqua che ha provocato l'affondamento. Sarà avviata un'inchiesta amministrativa per verificare le circostanze a cura dell'ufficio locale e marittimo di Catanzaro Marina.